Domande incrociate, coppie, avete scoperto le tre destinazioni, adesso dobbiamo testare la vostra conoscenza geografica e di cultura generale sui luoghi che visiterete nella merda. Potrete brevemente consultarvi prima di scrivere la risposta sulla lavagna che avete di fronte. Avete dieci secondi per ciascuna domanda, siete pronti? No, quindi ce ne andiamo e siamo pronti. Forza, dai! Bangkok! Sicuro così, Bangkok, vai! Non si scrive così, vero? No, vabbè, comunque. Vabbè, non sapevo come si scrive, ma... Bangkok! Che forse c'è qualcosa di sbagliato, però va bene. Ok, rosso, verde, verde, bianco, verde sicuro. Lo so, lo so! Vero, lo sai! Io so il blu, il bianco! Verde, bianco e rosso, amore! Ne manca uno, il verde, manca il... Rosso, ok, dai, dai. Buttiamoli tutti. Verde, bianco, giallo e rosso. Secondo me, loro sono buddhisti, ma che protestanti, sono buddhisti, non sono hindù. La cosa scrive solo buddha, quasi. Oddio, è il buddismo. Il buddismo. Il buddismo, no? Sì, il buddismo. Abbiamo visto buddha e c'è buddismo. Buddha. È un po' Gesù, ogni tanto. C'è vero? Yes! Protestanti, ma che cazzo di gelese in Irlanda? È una monarchia, c'è il re. È monarchia, una monarchia, qualcosa. Scrivi monarchia. Monarchia... Credo. Amore, io sono quasi laureato, eh. Tu mi sei un modello, eh. No, là c'è qualcuno di potete. Di certo, non è. Presidenziale, una repubblica presidenziale. Ho vinto, Pepino Express, grazie a lei. Monarchia qualcosa. No, c'è il re. Te l'avevo detto. Speriamo che ci riceve. Pimponk. No, so che giocano con la palla... Calcio a volo. No, no, dai, 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 dai. Cosa può essere? Eh, dai, cosa? Non è che se mi dici dai lo so io. Muay Thai. Aspetta, perché sono state colonie di... Box? No. Thai box, brava. Thai box. No, sì. Aikido. Aikido. Ah, no, no, la box tailandese. Sì, scrivi il box tailandese. Grande, grande, brodo. Manacca, ti ho riparato, mamma mia. Se sto bene, è compagno di viaggio. Tiro, apri, tirate. No, perché non lo soccale. No, perché non lo soccale.